Musica Aaaaaah Ragazzi ma che cazzo fate Ma vi masturbate davvero Su questa merda Vaffanculo questo è un omaggio serio Un cartone serio Nooo un videogioco di merda Perché indossi quello stupido costume da coniglio? Perché indossi quello stupido costume da uomo? Toglieti la maschera 28 giorni 6 ore 42 minuti 12 secondi Ecco Quando il mondo Finirà Aaaaaah Aaaaaah